ehi allora niente siamo in viaggio ehi cosa hai la mail ho tutto dietro ho tutto dietro oh ti sto riprendendo ma grazie un cazzo grazie a vai Miro ehi ehi Miro girati un attimo va bene è una mossa di Tekken va bene è una mossa di Tekken allora dove stiamo andando? guardate un attimo inquadrata questa bella focaccia pugliese stiamo andando sul lago maggiore precisamente a Luino stiamo andando a Milano ehi tu guarda davanti si gira indietro i 360 gradi per dirci che va in Crogera a Milano vado a Milano in caccia madonna come l'hai conosciuto? come vi siete conosciuti? no ma ieri ho rivisto quella del quadro elettrico che me l'ha postata Tony vabbè vabbè niente dicevo stiamo andando a Luino la prima data della mini tournè la mini tournè allora ripenemi un po' anche tu tournè vai tagliur tagliur stiamo andando hey guys io sono Iacano da Black Stage Heroes e adesso stiamo andando a giocare in Luino Luino suona malissimo di merda ti fai tutto un discorso in inglese comunque vedete si è tagliato l'assenza la fretta la guardate che sento un rumore questo è un battaglio pneumatico no sono in Regia Against the Machine dunque la fretta la passione per andare a suonare cosa comporta guardate quanti tagli quanti tagli uno ha fretta deve andare in tour e si fa la barba velocemente non vada niente a un cazzo si distrugge la barba pur di andare a Luino pur di arrivare pur di arrivare in orario e non scendere in ritardo ma cazzo ci mancherebbe chiamatemi on time on time on time ah chiaramente sono sempre il perfetto orario ma che cazzo dici che non ci credi neanche tu mi rimandiamo no io sto sbronzo cazzo ci sto provando ci sto provando è sbronza stiamo provando con questa cera ma c'è una modalità più curva di quella che siamo trovati madonna ecco siamo sbronzi ah no non c'era non c'era la modalità solo nelle foto se vuoi non mettere il dito davanti e abbiamo bevuto una cera e salvesta dal ideale adesso ci facciamo la foccaccia dell'anno Yeah piazzolla cazzo stai troppo cazzo so more quante volte scoppui ehi quante volte scoppi Squad vai dai dai della 丈 hai scopato tutto qua dentro qua dentro の andiamo al video che è solo video troppo buono ciao ma questo è bello che lo facciamo di fuori